Oggi faremo 5 semplici esercizi per la parte superiore del corpo. Basta un semplice tappetino e due manubri da mezzo chilo o anche un chilo oppure due bottigliette di acqua da mezzo litro. Pronti? Sdraiati e centralizzati sul tappetino. Porta le braccia verso il soffitto, polsi in linea con le spalle, piega leggermente i gomiti in fuori, ingessa le braccia così. Apri le braccia fino a sfiorare coi gomiti il tappetino e poi riporta i polsi in linea con le spalle. Inspira apri e espira torna. 15 ripetizioni così. Non piegare di più le braccia. Mantieni l'angolo con il gomito leggermente piegato. Contrai gli addominali per non inarcare la colonna. Se senti un po' di tensione alla zona lombare puoi piegare le ginocchia al petto e continuare l'esercizio così. Ancora cinque così. Chiudi. Apri. Chiudi. Inspira. E espira. Contrai gli addominali. Ancora uno. E stai. Pull over. Porta le braccia indietro oltre la testa e riporta i polsi in linea con le spalle. 15 ripetizioni così. Inspira. E espira torna. Mantieni le braccia lunghe. Non piegarle di più. Come due barre d'acciaio. Contrai gli addominali per non caricare la zona lombare. Se senti tensione, come nell'esercizio prima, puoi portare le ginocchia al petto e continuare. Tanne ancora cinque così. Quattro. Contrai gli addominali. Tre. Mantieni le braccia lunghe. Due. Ancora uno. E riporta le braccia verso il soffitto. Terzo esercizio. Precipiti. Piega le braccia. Stendi le braccia. Mantieni i gomiti sempre in linea con le spalle. Inspira. Piega. E espira. Stendi. Piega. Stendi. Stendi. Piega. Stendi. Mantieni l'allineamento, non spostare i gomiti. Sempre in linea con le spalle. Mantieni gli addominali contratti. Per non inarcare la zona lombare. Come negli esercizi prima, se hai bisogno, porta le ginocchia al petto. Ancora quattro così. Vai. Tre. Mantieni i gomiti in linea con le spalle. Gli ultimi due. Contrai gli addominali. Ancora uno. E stai. Per il prossimo esercizio, vieni a sederti e vai in ginocchio. Alzate laterali. Allinea ginocchia, spalle anche. Porta i polsi in linea con le spalle. Torna vicino ai fianchi. Inspira. Ed espira. Continua così. Contrai gli addominali. Non alzare le spalle. Mantieni l'allineamento. Apri. Torna. Inspira. Espira. Ancora otto così. Mantieni l'allineamento tra le ginocchia, le panche, le costole e le spalle. Ancora quattro così. Vai. Inspira. Espira. Contrai gli addominali. E torna. Ancora uno. Ultimo esercizio. Bicipiti laterali. Piega. Stendi. Apri bene il petto e le spalle. Inspira. Ed espira. Continua così per 15 volte. Mantieni gli addominali in dentro e in su. E l'allineamento tra le ginocchia, le anche, le costole e le spalle. Ancora otto. Piega. Sette. Gli ultimi. Vai. Attiva gli addominali. Continua ad aprire il petto e le spalle. Ultimi quattro. E stendi. Tre. E stendi. Attiva gli addominali. Ancora uno. E stendi. Puoi ripetere questi esercizi per due o tre volte di seguito. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata.